e diciamo che passerei subito già la parola a Michael che ci tiene a fare un piccolo discorso introduttivo. Ok. Scusa ma non parlo italiano bene. Ho capito ma non parlo. Io parlo in inglese. Ci sarò io che traduco. First, thank you very much for coming. This is a very important, very exciting day for us. As you know, last year we came in first with the most season tickets of any team in Sirius C, more than 6.000. Something we are very very proud of. Allora, innanzitutto mi scuso per il fatto che non parlo italiano e ci tenevo ad essere qui oggi. Per noi la vendita degli abbonamenti è un momento molto importante. e siamo molto orgogliosi del fatto che l'anno passato siamo stati il club che ha venduto più abbonamenti di tutta la Serie C e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Il motivo che questo è così importante è che senza i fans, siamo nulla. The fans sono tutto. They give the team energy. They give the organization energy. They make us excited and proud. So this is so important for us because it shows that our fans value the club. They think we're important and they support us and we support the fans as well. So this is a very very important day for us. And I'm very excited about next season. I hope that we make an even greater record this year and have more than 6,000 season tickets this year. I just want to also say thank you to all of you and Cesena for welcoming me and my family and making me feel very much at home here. I said to the team I love to come here. It's really a special place for me. I'm excited about the season. We have a great team. I'm very excited about Fabio Artico. We are in great hands. He is a great person. He will be a great sporting director together with our mister. We are excited about the season and thank you again for welcoming me. Thank you for your support and here's to another record for season tickets on this exciting day. Well, there are a lot of enthusiasm in the new one. And also, to the new one. By the way, people are hoping to give their own. I hope that we can achieve or easily overcome your record that we have done in the next season at the next time in particolare ci tengo a ringraziare tutta la comunità di Cesena e anche voi per essere qui oggi, ogni volta che vengo mi sento come a casa, siete sempre molto ospitali nei miei confronti e anche nei confronti della mia famiglia ogni volta che sono venuto e siamo molto contenti di avere uno staff che ci supporta, Fabio Artico sta facendo un bellissimo lavoro assieme al nostro mister e quindi comunque ci tengo particolarmente a ringraziare voi per il supporto e naturalmente cerchiamo di avere sempre un obiettivo che è il miglioramento per quanto riguarda la stagione che sta per cominciare.